La prima società di mutuo soccorso creata in Italia il 12 ottobre 1848 qui a Pinarolo. La società gestisce anche il museo insieme alla fondazione delle SON Piemontesi che è stato inaugurato nel 2002. Il museo comprende una serie di sale dedicate alla storia della società di Pinarolo, le prime quattro sale e poi le seguenti invece sono dedicate alla storia del mutualismo in generale. Perché dopo la nascita delle prime società c'è stata un'espansione, specialmente negli ultimi vent'anni dell'Ottocento, notevole, sono arrivate ad essere parecchie migliaia in Italia. Esistono oggi alcune centinaia dopo una serie di fasi più difficili che sono rappresentate dalla prima guerra mondiale, il fascismo, la resistenza e dopo sono rinate. Qui all'ingresso del museo abbiamo una mostra di un fotografo italiano, Mario Cresci, che testimonia l'esistenza di queste società oggi, negli anni 2000. Cresci ha fotografato 35 società dalla Val d'Aosta alla Sicilia dove si svolgono attività di vario tipo. Su questa relazione tra quelle che sono state le società di mutuo soccorso, sono state la più importante organizzazione popolare, poi sono nate in gran parte dalle società di mutuo soccorso altre forme organizzative popolari, tipo i sindacati, le cooperative, i partiti, ma le prime e quelle che è andato più sviluppate sono state le società di mutuo soccorso. Poi, come dicevamo prima, hanno attraversato dei periodi difficili per vari motivi. Uno, perché una serie di obiettivi su cui sono nate sono stati realizzati e quindi, come dire, il motivo di partenza è venuto un po' a mancare. Due, perché molte energie sono state assorbite dalle altre organizzazioni, dalle cooperative, dai sindacati, dai partiti. Tre, perché c'è stata la prima guerra mondiale che ha portato via molte energie fisiche proprio delle persone che facevano parte delle società che molte non sono più tornate e molte hanno avuto difficoltà, eccetera. Poi c'è stato il fascismo che non ha visto di buon occhio questa forma organizzativa popolare, ha cercato di tenerle sotto controllo. Poi c'è stata la lotta per la liberazione. Dal dopoguerra sono ripartite, ovviamente molto indebolite. Alcune di queste società oggi esistenti, dicevo, sono alcune centinaia, un migliaio circa in Italia in attività, alcune svolgono una funzione molto specifica, sono mutue sanitarie. Cioè attraverso una tessera, il versamento dei contributi della tessera, si ottengono dei vantaggi dal punto di vista sanitario per fare le visite, per... quindi delle defiscalizzazioni, no? E quindi funzionano abbastanza bene, anche se hanno una concorrenza molto forte dal punto di vista delle mutue, dei tentativi dei privati, delle assicurazioni private, no? Però godono di una buona reputazione per i valori che portano avanti, fanno parte del terzo settore, cosiddetto terzo settore, quindi devono rispettare alcune regole di funzionamento, diciamo, democratiche. Un'assemblea ogni anno, tutti i soci possono essere letti nelle varie cariche e non si possono dividere gli utili tra i soci. Gli utili devono essere investite. Sulla base di questi tre principi funzionano le mutue sanitarie. Oltre alle mutue sanitarie ci sono poi centinaia e centinaia di società che fanno attività di vario tipo. Naturalmente tutte partono dall'attenzione alla condizione sanitaria dei soci o con delle iniziative di prevenzione, come stiamo anche facendo qui in questa sede dove abbiamo attivato un ambulatorio sociale nel 2019 e insieme alla Mutua Piemonte, che è l'altro soggetto mutualistico di Pinerolo, oltre alla società di mutuo soccorso, stiamo facendo una serie di interventi dedicati alla prevenzione della salute nei suoi vari aspetti, dall'alimentazione alle varie specialità, nefrologia, cardiologia, eccetera. Oltre a queste attività di tipo sanitario, come dicevo, le altre società esittenti in Italia si occupano di vari interessi. Da quelle più strettamente culturali, diffusione dei valori mutualistici a interventi culturali in senso lato, a attività, diciamo, di quelle che una volta si chiamavano il dopolavoro, che però oggi hanno una funzione importante rispetto alla popolazione anziana che frequenta queste sedi. Va dai giochi di carte, dal gioco delle bocce, alle camminate organizzate, eccetera. Ci stiamo lavorando su queste prospettive, perché abbiamo avuto la legge nel 2017 che ha regolamentato queste società, si chiama legge del terzo settore e stiamo cercando tutti quanti, tutte le società sparse in Italia e le associazioni che le riuniscono, noi facciamo parte della FIMIV, la Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, stiamo cercando di, come dire, di rilanciare il concetto di mutualismo. Il concetto di mutualismo è fondamentale. La società senza i rapporti tra le persone non starebbe in piedi, basata solo sul cercare di, diciamo, sulla parte economica, in senso stretto, sul cercare il profitto, eccetera, ecco, la società non starebbe in piedi. Non ci fossero migliaia, centinaia di migliaia, milioni di relazioni quotidianamente che avvengono tra gli individui e che permettono alla società di funzionare. Allora, su questo aspetto noi vogliamo intervenire, provare a dare una maggior forza, una regolamentazione che quindi dia una maggior forza ad alcuni di questi interventi. Si sa, ci sono degli esempi di attività mutualistiche non riconosciute come tali tra i giovani studenti. Sicuramente voi individuerete delle forme di rapporti, no? Per cui uno dà all'altro qualcosa, no? E ci, come dire, ci si fida di questo rapporto. Ora, molte di queste azioni non sono regolamentate, non sono istituzionalizzate. La questione è individuare su quali terreni oggi fare delle proposte che funzionano. Sicuramente non può essere una riproposizione dei motivi del 1848, diciamo, dell'Ottocento. Oggi le tematiche sono sicuramente diverse. Si intrecciano con le tematiche tradizionali, quelle della sanità, eccetera, altre tematiche che sono quelle di genere, che sono quelle climatiche, che sono quelle delle migrazioni. Allora, unendo questi interessi diversi, si può immaginare di avere un indirizzo, una prospettiva. E questo insieme a voi, perché il ruolo dei giovani è fondamentale. Per avere energie per fare questo lavoro abbiamo bisogno del contributo dei giovani. Per questo da alcuni anni stiamo collaborando, cercando di collaborare con le scuole e con iniziative che coinvolgano i giovani. Non siamo ancora arrivati alla definizione degli obiettivi. Li stiamo cercando. Faccio un esempio. Oggi molti giovani lavorano con contratti di lavoro particolari. Ad esempio, molti sono costretti, alcuni lo scelgono, altri sono costretti ad avere la cosiddetta partita IVA per sviluppare le loro attività. Molti di questi che lavorano in queste condizioni non hanno delle coperture dal punto di vista sanitario e rispetto a momenti di disoccupazione, che hanno gli altri lavoratori che hanno contratti fissi. Ecco, una delle strade già praticate e già praticate da alcune di queste società di mutuo soccorso o associazioni di mutuo soccorso o cooperative di mutuo soccorso, perché assumono anche delle forme giuridiche differenti, però il motivo è questo. Cercano di dare copertura su questo piano a quelli che lavorano. Questa è una forma nuova di mutualismo. Esistono degli esempi, addirittura a livello europeo. Noi siamo venuti a contatto con un'associazione nata in Belgio, che si chiama SMART, che è partita da fare operazione di mutuo soccorso tra i lavoratori della cultura, per lo più giovani, e si è espansa poi dal Belgio, è arrivata a sede in sette nazioni europee, anche in Italia, eccetera. Ci sono poi altre iniziative di giovani che non sono dentro, diciamo, l'alveo storico, l'alveo delle società storiche, che però si richiamano costantemente al mutualismo. Noi in particolare siamo in rapporto con un'esperienza del genere a Torino, si chiama Comunet, cooperazione e mutualismo in rete, di cui magari avrete occasione di, dei quali avrete occasione di conoscere i rappresentanti, ecco, che fanno un'operazione di mutualismo oggi in una zona di Torino particolarmente difficile, si chiama Barriera Milano, si aprono degli sportelli per dare alla popolazione e poi in particolare i soci, ecco, la differenza forse rispetto alle società del passato è questa, oggi la società di mutuo soccorso non può rinchiudersi su se stessa, una volta quando è nata si rinchiudeva per proteggersi su se stessa, oggi una società di mutuo soccorso deve aprirsi alle problematiche nuove, quindi in prima battuta deve offrire i servizi a tutta la popolazione nei luoghi dove si trova e poi si va verso come dire la finalità è quella di far diventare soci quelli che usufruiscono di questi servizi però sicuramente questa è una differenza fondamentale rispetto al 1800 perché poi le condizioni erano diverse le classi sociali erano più strutturate per certi versi oggi c'è una frammentazione e quindi è tutto da ricostruire. Grazie. Come può fondarsi oggi su quali basi e con quali persone si può fondare oggi una società di mutuo soccorso? O l'ho accendato prima non lo so. Io sono convinto ma non solo io Diego e tutti gli altri che lavorano a questo progetto si può chiamare un progetto sono convinto delle potenzialità almeno teoricamente di questa nuova possibile esperienza nei particolari non sono in grado di rispondervi io vi posso dire quel che abbiamo messo in piedi e quel che immaginiamo allora noi abbiamo messo in piedi un ambulatorio sociale una quindicina di medici molto in pensione non tutti in pensione specialisti gente che ha lavorato anche primari 30 anni all'ospedale civile ha messo a disposizione della società di mutuo soccorso una parte del loro tempo hanno messo a disposizione noi abbiamo pensato allora di usare del loro tempo e delle loro competenze vengono a fare le visite in questo locale che si trova sotto al piano terra abbiamo organizzato in questo modo ma poi di questo parlerete in modo più specifico con il mio collega con Luca in un prossimo incontro penso comunque ve lo accenno solo abbiamo deciso di mettere a disposizione questo patrimonio in parte in gran parte per le persone che ne avessero bisogno e quali sono le persone che ne hanno bisogno voi lo sapete andare a fare una visita specialistica oggi costa abbastanza si va dai 130 150 anche 200 euro per una visita se voi dovete farne due lo moltiplicate dovete farne tre allora per quelli che ne avessero bisogno non fossero in grado di fare per conto loro questo percorso e le persone vengono indicate in gran parte dalle associazioni che operano sul territorio pinerolese dalla Caritas dalla Diaconia Valdese dal Lama una serie di associazioni che collaborano con la società di motosoccorso e una parte ristretta per riservate ai soci della società per come dire un servizio che si cerca di offrire ai soci alla società l'altra cosa che abbiamo fatto è ancora un esperimento iniziato un anno fa si chiamava Sinergie si cercava con dei locali della società di mettere a disposizione questi locali per l'associazione quindi di fare mutualismo tra le associazioni non più tra le persone ma tra le associazioni in questi locali si svolgono due scuole popolari il martedì e il giovedì in parte per le persone che devono imparare i migranti che devono imparare l'italiano in parte per persone aperte più aperte gente che frequenta le varie scuole di Pinerolo quindi vengono offerti questi servizi gratuitamente il mercoledì poi c'è un intervento all'inizio era per la compilazione dello speed l'identità digitale dei cittadini che è abbastanza complicato quindi il mercoledì si faceva questo servizio e poi si fanno altre cose questo è un altro pezzo per costituire oggi una società di mutuo soccorso però ripeto il 90% delle cose che si possono fare si devono ancora inventare inventare non da nulla ovviamente ma ragionando con le persone perché la questione è questa non può essere la società sulla base del passato a fare delle proposte bisogna capire quali sono i bisogni a cui si tratta di andare incontro quindi c'è un'operazione diciamo tra quelli che lavorano nella società e quelli che stanno sul territorio per definire con maggiore esattezza i bisogni perché altrimenti rischiamo di prendere iniziative e poi di non avere la gente che segue queste iniziative quindi si tratta questo è un equilibrio non semplice perché la società oggi è molto frantumata non è facile verificare con una certa sicurezza quali sono queste esigenze cerchiamo di procedere lungo questa strada è sicuramente fondamentale l'apporto dei giovani perché non solo per la capacità di muoversi sui media che resta oggi uno strumento di comunicazione decisivo ma anche come idee da mettere sul piatto diciamo rispetto alle persone che verranno qui a farsi intervistare noi abbiamo si è cercato insieme anche a a Diego di dare un quadro dell'esistenza di queste società e delle potenzialità e delle differenze anche di queste società tra i primi ci saranno dei rappresentanti due storiche società molto differenti tra i loro una è nella città di Torino e l'altra in una zona di montagna la Val Chiusella quindi sono molto differenti come ambiente e come operatività diciamo e poi con una persona che ha avuto un ruolo importante nel mantenere in vita il movimento in questi anni che si chiama Sebastiano Solano che potrete interrogare sul passato abbondantemente perché insieme a Diego Roboti è un'altra memoria molto importante del movimento delle società di motosoccorso nella volta seguente ci saranno ci saranno i cosiddetti giovani abbiamo cercato in gran parte sono persone anziane come me e come anche più di me quelli che operano nelle società di motosoccorso perché è la continuazione di questa esperienza però ci sono dei segnali positivi ad esempio in Piemonte che è la regione che da sola detiene quasi il 30% ancora adesso delle società esistenti in Italia quindi il Piemonte è la più rappresentativa in assoluto circa 300 operanti in Piemonte allora i giovani ci sono alcune di queste società che sono gestite da persone giovani non della vostra età ma quasi un po' più un po' meno cioè un po' di più dei vostri anni ma comunque non della nostra generazione e allora lì si può provare a chiedere a impostare le domande sapendo questa cosa vedendo cosa che spinge un giovane a attivarsi eccetera e in seguito ci saranno la terza volta io salto adesso quelle della Valpellice perché dobbiamo definirle ci saranno dei rappresentanti sempre di una società storica importante quella di Savigliano della mutua Piemonte che è l'altro soggetto mutualistico di Pinerolo quella che fa assicurazione sanitaria in modo specifico e in seguito però questo è con i ragazzi delle medie ci sarà l'intervento tra l'altro del rappresentante della più grande mutua sanitaria anche la più gloriosa italiana che si chiama Cesare Pozzo è la mutua nata dai ferrovieri e i ferrovieri hanno una categoria molto ben organizzata e ha raggiunto una diffusione una capacità organizzativa notevole sono arrivati ad avere 200.000 soci in Italia con 96 disparse da tutte le parti eccetera quindi è una realtà consistente innanzitutto la società e lo vedete anche dalla prima sala dove sono esposte le firme dei fondatori 135 mi sembra e la composizione di un direttivo e anche già salendo le scale dove avete i nomi dei primi che formarono il primo direttivo della società vedete che sono artigiani non sono operai in senso classico come uno potrebbe immaginare sono praticamente tutti artigiani ci sono dei fabbri ci sono dei falegnami ci sono dei muratori ci sono dei decoratori c'è una figura tra i dodici del direttivo o undici che sono segnati oddio non mi ricordo più esattamente che è quella del ferroviere Rossi che è stato anche il primo presidente e che forse era anche quello più collegato ai movimenti di emancipazione popolari tra tutti quelli che ci risultano ora gli operai poi arrivano che non compaiono dentro si chiama società operai di mutuo soccorso però all'inizio in quegli anni lì la composizione sociale erano anche quelli che erano in grado perché bisognava anche far questo in grado di pensare di organizzarsi perché magari gli altri non ce la facevano non avevano strumenti eccetera quindi la composizione sociale del nucleo iniziale è questa sono anche quelli che sono in grado di pagare la quota con cui formare la cassa comune che poi serve poi in casi di malattia e poi dopo una serie di anni anche per le prime forme diciamo di pensione per lavori usuranti o contributi e poi la questione dei funerali che è molto importante e che avrete forse già trattato se non avete trattato è un altro aspetto della società voi direte perché si occupano del funerale la società di Pinerone a un certo punto deve per ogni funerale di socio portare fuori la bandiera accompagnata da 100 soci quindi un numero può sembrare incredibile almeno nel momento della morte e della sepoltura ci sia un riconoscimento sociale dei gruppi a cui uno di cui uno ha fatto parte e poi c'è anche un contributo per la famiglia nel caso della morte quindi un contributo sia economico sia di riconoscimento sociale era il 12 ottobre 1848 nel vicolo qui vicino alla trattoria primavera troverete la lapide perché lì si trovarono i primi organizzatori della prima società di mutuo soccorso d'Italia dopo alcuni anni si sono trasferiti in questa zona e hanno iniziato a come dire avere un primo un primo una primo locale e poi la cosa si è ampliata tant'è vero che attualmente l'edificio che appartiene alla società di mutuo soccorso comprende tre negozi pieno terra il museo qui e una serie di alloggi il cortile quindi è un complesso edilizio notevole anche se non semplice da gestire era il 12 ottobre 1848 nella trattoria del cavallo bianco si trovano in 12 e danno vita alla prima società di mutuo soccorso d'Italia di mutuo soccorso